Quando eravamo piccolini i nostri genitori insistevano sempre che la domenica ci volevano portare in campagna noi però dicevamo ma non vogliamo venire in campagna, come mai? Perché noi abitiamo già in campagna andiamo in città, solo che i miei è proprio per quello che abitavano in campagna, che non ci piaceva la città e allora non si andava mai, una volta si prendeva il treno e si andava o di qua o di là perché il treno va o di qua o di là, non puoi cambiare, ti metti lì e sposti la rotaia cioè è difficile comunque, per questo andava o in una città più a sud o in una più a nord ma non c'era tanto divertimento perché comunque questa roba insomma agricola rimaneva un po' dentro e allora noi andavamo in città da agricoli comportandosi un po' male comunque, capito? apposta, cioè tipo, eh qua, bere, mangiare, eh e qualche parolaccia insomma erano ricordi di infanzia così, cioè anche triste